Belen Rodriguez, ospite di Federica Panicucci a mattino 5, parla di Andrea Iannone. Nessuno mi ha protetto come lui, dice. Forse è una frecciatina all'ex Stefano De Martino e aggiunge, mi stima. Parla di un amore maturo e consapevole. Non è stato un colpo di fulmine. Il nostro è un amore maturo. Nessuno mi ha mai protetto come mi protegge lui, sottolinea Belen Rodriguez raccontando il rapporto con Andrea Iannone. Dopo l'addio con De Martino non credeva più di donarsi di nuovo con tutto il cuore. Invece qualcosa è cambiato. Andrea è stato otto mesi fermo ad aspettarmi e a fare le cose giuste. Quando hai un figlio è tutto più complicato perché fai fatica ad introdurre un altro uomo nella tua vita. Ti fai tante domande, svela la showgirl 33enne, Io ho sempre vissuto di pancia, ho fatto cose giuste e cose sbagliate perché sono sempre stata molto impulsiva. Quando mi innamoravo non vedevo più niente. Oggi come oggi razionalizzo le cose, tanto, forse troppo. È un rapporto in cui si parla tanto, ci è tanto dialogo, ci si capisce. Entrambi facciamo di tutto perché l'altro stia bene. Anche Grazie.